7000 caffè li ho già presi perché 7000 caffè li ho scroccati io sei grazie a lascia e grazie a mamma nero nel castello lassù immagino tipo questa con far pigneto davanti a casa di minonna che fa tipo sei pigneto sei io penso che minonna pierzfero da stiro a 93 anni dice torna dentro puttana ora rega ieri sera abbiamo fatto un bel buco nell'acqua ma era impossibile via quindi ce li proviamo stasera risultati esatti di manchester paris andermen e il porto roma scrivetemi un privato scelgo dal che c'è pendevo riposto insieme rega ascoltatemi bene io c'ho lì che sei due nord due lì che sei due della roma contro il porto a dieci dieci senti che voce la fai sei da lascio che giochi a roma e te credo così se passano c'hanno due partite in più e se perdemo ci li danno i prossimi pastori rega io stasettimana darò un bel po' di quote maggiorate stasera domani venerdì sabato solo per chi si registra questa altra settimana ci saranno promozioni top ma solo per chi si registra rega quindi fate voppis boomerang del birichino oppure bel ma che è uno scherzetto che con c'è nafta sulla lingua ma che stai a fare lazzarone quanto buono essi fisciti e brutti gli ex eh l'ex è quello che chiama tu madre tu padre contro amico tuo e dice sai io adesso sto bene ma sti cazzi avermi oggi se sono potute fare le prime domande per ottenere il reddito di cittadinanza chi lo critica è perché non sa che vordì non riuscì a dormì perché non sai come paga le bollette e vive dignitosamente pensate scusate chi lo avverte il telecronista da rai che se dice colorov e non colarov eh pure mi nonna che c'ha 93 anni e non sa parlare italiano lo sa questo per giornalista non lo sa colare è un bel primo tempo però non ho capito le pronunce di questo perché Ulzen perché devi fare lo svedese quando sei da Bergamo dimmi Ulzen ma è difficile caere magari Ancolicese 2 è entrata scente via i risultati impossibili non gli ha scappiano la doppia chance vabbè raga se gli fanno domani forza avanti forza comunque ragazzi io non è per cioè sapete che so sportivo no arriveder e ricorre da Roma quello su chic per me lo prende quindi se lo prende per me è carciro del ricore mori sei già sveglio oppure dormi vuoi fare un giro insieme a me mi annoio troppo non ne posso più parlare ai quadri non diverte poi granché ferma Giovanna giochiamo con la neve o con me grazie a tutti